Martedì 7 luglio, il workout di oggi ha il focus sul core Warm up abbiamo due set di che cosa? Tutti i movimenti con il pvc, il primo movimento sono dei pass through, quindi delle circonduzioni mi raccomando braccia sempre belle tese 10 pvc good morning e 10 pvc overhead squat Per quanto riguarda il workout abbiamo 5 round 4 time di che cosa? 10 overhead lunges, 40 kg uomo e 25 donne al box e 20 sit up E per finire come cash out abbiamo 3 set di che cosa? Andiamo a lavorare sul high hang squat snatch ma a bilanciare vuoto quindi dovremo eseguire dei set di 5 ripetizioni con il riposo necessario tra un set e l'altro Mi raccomando quando avete finito il workout o prima di cominciare seguiteci sui canali social cioè instagram, facebook e sul canale youtube dove trovate un sacco di tutorial oltre a tutti i vari video di ogni giorno Primo movimento, pass through, quindi circonduzioni abbraccia tese, spingiamo via da noi il pvc dove ho fatto la presa snatch e quando arriviamo in over head se sentiamo tensione alle spalle aumentiamo ancora un pochino la distanza tra le mani e trovate la distanza corretta spingendo sempre il pvc tenue e tocchiamo l'addome e andiamo a toccare i glutei dopodiché good morning andiamo a mettere il pvc sulle spalle, i piedi sotto le anche manteniamo la schiena completamente dritta scendiamo fino ad avere l'addome parallelo al pavimento piegando leggermente le gambe in maniera tale quindi da avere sempre la schiena dritta per tutto il range di movimento dopodiché mantenendo la stance come va all'inizio nel pass through portiamo il pvc sopra la testa, piedi un po' più larghi delle anche eseguiamo degli overhead squat quindi scendiamo, compriamo il parallelo e ritorniamo completamente dritto in piedi anche indietro di ginocchio avanti, rompo il parallelo, spingo, stendolo anche e ritorno in piedi i movimenti del workout sono overhead lunges quindi prendiamo il nostro bilanciere dovremo eseguire uno snatch per portare in overhead il carico una volta in overhead attiviamo bene le spalle quindi spingiamo forte verso l'alto, braccia tese dobbiamo eseguire dei passi in avanti, degli affondi ginocchio e la gamba dietro che tocca il pavimento spingo e ritorno in piedi alterno le gambe così per 10 ripetizioni finito il decimo lunges mi siedo a terra eseguo dei sit up unisco le sole delle scarpe, piedi vicino al corpo mi corico, tocco il pavimento dietro la testa e vado a ritoccarlo davanti alla punta dei piedi per finire come cash out lavoriamo un pochino sullo squat snatch noi dovremo eseguire 3 set di 5 barbell quindi bilanciere vuoto high hang squat snatch stance trovata prima per quanto riguarda il pvc pass through andiamo in power position distensione dell'anca e ricezione in accosciata completa power position spingo stand e ricevere acquiesciata e ricevere acquiesciata si si